su via condotti adesso fa un caldo mortale si muore perché prima c'era su altre strade un po di venticello di fatti la gente o è smanicata o è coi fiumini però qui si muore di caldo prada gucci bulgari bior ancora prada il gruppo eccolo qua immancabile gruppo che io devo attraversare nuotare uscire l'ho fatto però che spettacolo signorine sì però sono fiorite ma non fioritissime come è giusto che sia mamma mia oh cerca di non buttare per terra una vista di insieme ciao 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 ciao